Bene, perché lo iodio I2 è solubile in tetracloruro di carbonio, CCL4? Allora, la solubilità a livello particellare noi la interpretiamo col fatto che le particelle delle molecole I2 e le particelle delle molecole CCL4 hanno interazioni tra di loro, interazioni intermolecolari. Quando si sciolgono è perché si forma un miscuglio omogeneo e perché tra le due differenti particelle ci sono forze intermolecolari. Andiamo a vedere quali sono le forze intermolecolari attrattive tra I2 e CCL4. Allora, I2 è lo iodio. Lo iodio è fatto da due atomi, da molecole di iodio, da due atomi legati con legame covalente, legame covalente puro. Quindi non ci sono separazioni di carica, non c'è momento dipolare. Le uniche forze, diciamo gli unici dipoli che possiamo immaginare sono dei dipoli istantanei, forze di London. CCL4, carbonio collegato con tre atomi di cloro con struttura tetraedrica, mentre la molecola di iodio è lineare per forza. CL, 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 CL. Anche se i legami CCL li dobbiamo considerare polarizzati, perché il cloro è più elettronegativo e quindi ci sono dei delta meno sugli atomi di cloro. In realtà la molecola è simmetrica, quindi la molecola non ha momento dipolare. Quindi si tratta di due molecole, due molecole diverse, ma entrambi senza momento dipolare. Questo fa sì che le uniche forze che possiamo invocare sono i dipoli istantanei. Dipoli istantanei che vanno a invertirsi, istante dopo istante, fino a realizzare quindi delle forze attrattive piuttosto deboli. Quindi le forze attrattive che rendono solubile il tetracloro di carbonio e lo iodio sono dipoli istantanei, dipoli istantanei, le cosiddette forze di London. Grazie.